Si discuterà dei provvedimenti legati al tema molto attuale delle pensioni, con la quota 100 e la rottomazione licenze commerciali, nella prossima puntata di Spazio Impresa in Onda Su Sud TV, canale 663, domani giovedì alle ore 21.10. Il format settimanale, che si occupa di economia, condotto da Alessandro Mazzaro, informerà gli utenti sugli importanti argomenti, con gli ospiti Piero Vivone, presidente nazionale Fedapi, ed Antonio Procida, responsabile centro-studio Fedapi. Nelle prossime puntate con vari ospiti verranno affrontati i temi più caldi riguardanti commercio, imprese e tassazioni.